Uomini e donne, gli spoiler delle prossime registrazioni raccontano che la produzione metterà Ida Platano davanti a una scelta, e le dama, stavolta, non si farà pregare Nelle ultime settimane si è parlato molto del suo percorso all'interno del programma. Da una parte Pierpaolo, dall'altra Mario, in mezzo tante segnalazioni pesanti Alessandro Rosic aveva rivelato di come Mario fosse stato avvistato in compagnia di altre donne, lui è talmente innamorato che qualche settimana fa è uscito con tante ragazze e le ha contattate su Instagram E segnalazioni erano arrivate anche su Pierpaolo. Tra le storie che il blogger Lorenzo Pugnaloni aveva postato su Instagram il 17 aprile ce n'era una che riguardava proprio lui, il regalo fatto a Ida per il compleanno era sponsorizzato Le nostre box, scrive il negozio di fiori, sono arrivate a uomini e donne grazie a Pierpaolo che si è affidato dei nostri consigli per stupire la sua bella Ida. Abbastanza per scatenare il pubblico, è la prova che cercavamo, Pierpaolo è lì solo per le telecamere, fuori anche lui Uomini e donne, Ida Platano sceglie se ristare o abbandonare Le anticipazioni rivelano che Ida, davanti a questi eventi, lascerà lo studio per poi tornare A quel punto, però, la produzione chiederà ufficialmente se ha intenzione di continuare il trono oppure abbandonarlo E sembra che Ida non abbia avuto dubbi in proposito, continuerà Una prima scelta ufficiale in attesa della seconda, che secondo il pubblico cadrà su Mario Mario che nei giorni scorsi si era dichiarato a Ida Platano Le sue parole però non avevano convinto nessuno, né in studio né fuori Particolarmente caustica era stata Tina Cipollari, non puoi credere ad uno che è scappato dallo studio e poi rientra e, ridendo sotto i baffi, ha detto mi sono innamorato di te giocandosi questa frase ad effetto Ida ti prego, non sa cosa inventarsi Parole riprese anche da Gianni Sperti, la frase eccessiva visto quello che c'è tra di voi Una strigliata Mario di uomini e donne se l'è beccata anche da Gemma Galgani e Barbara De Santi Pierpaolo invece ha ironizzato, Maria, guardandoti negli occhi, ti dico che sono innamorato di te